Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 137esima puntata del podcast di Marcos Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero open source. Un puntata che arriva dopo parecchio tempo dall'ultimo episodio, l'ultimo episodio è risolto dal 19 marzo, quindi è passato un mese dall'ultimo episodio. Rieccoci una pausa forzata perché, indovinate chi è che ha preso il covid? Il sottoscritto, avete indovinato bene. Ho preso per la seconda volta il covid, fortunatamente questo giro è stato leggerino, quindi non mi ha dato problemi, a parte la voce che era molto attarenante, ed ecco perché non sono riuscito nemmeno a registrare le altre puntate, perché poi non ci stavo con la voce con due secondi e facevo un colpo di tosse, oppure mi partiva completamente il vocale. Vabbè, iniziamo questa puntata che sarà molto ricca di contenuti. Ora bene, ricominciamo da dove eravamo rimasti con l'ultimo episodio, però andremo, vi giù, vi giù, vi prometto che andremo molto veloci. Apriamo la puntata parlando di una notizia che ho postato lo scorso 23 novembre, quindi un mesetto fa, devo smettere di fare le puntate così lunghe, vabbè. Riguardante un'iniziativa della Free Software Foundation Europe che ha lanciato una raccolta firme a volte a chiedere ai legislatori europei il diritto universale degli utenti di poter ristrarre qualsiasi software su qualsiasi dispositivo, anche una volta che il supporto finisce il produttore smette di fornire aggiornamenti. Su Marcos Box trovate maggiori informazioni, trovate la lettera aperta e trovate anche il link per poter partecipare alla raccolta firme. Io ho firmato, fatelo anche voi. Restando in tema di iniziative godevoli del mondo del software libero open source, come non parlare dell'annuncio fatto qualche giorno fa dalla Linux Foundation che ha annunciato la formazione della Overture Maps Foundation, un nuovo sforzo collaborativo per sviluppare dati cartografici aperti interoperabili come risorse condivise in grado di rafforzare i servizi di mappatura in tutto il mondo. Detto in soldoni, si tratta di una alternativa, stanno cercando di creare un'alternativa allo strapotere del suo Google Maps. Quali sono i partner della Linux Foundation in questa fondazione? Troviamo Amazon Web Services, Meta, che sarebbe quella di Facebook, Microsoft e TomTom. Ovviamente questa fondazione è aperta a tutte le comunità con un interesse comune nella creazione di dati cartografici aperti. La missione di Overture è di abilitare i prodotti cartografici attuali e di nuova generazione creando dati cartografici aperti affidabili, facili da usare ed interoperabili. Questa mappa interoperabile è la base per la sua sensibilità, quindi potrà essere utilizzata anche alle aziende che vogliono contribuire con i propri dati per rafforzare questo sistema cartografico, per migliorarlo. Quattro sono i pilastri su cui si basa la fondazione Overture. La prima è quella di creare mappe collaborative, quindi mira a incorporare i dati provenienti da più fonti, inclusi membri di Overture, organizzazioni civiche e fonti di dati aperti, come per esempio OpenStreetMap. Overture semplificherà l'interoperabilità con un sistema che collega entità da diversi set di dati alle stesse entità nel mondo reale, quindi per referenziare il tutto. I dati di Overture saranno sottoposti poi a convalida per individuare errori, rotture e atti di vandalismo, in modo tale da garantire che i dati delle mappe possono essere utilizzati nei sistemi di produzione. E infine Overture definirà e guiderà l'adozione di uno schema di dati comuni strutturato e documentato per creare un ecosistema di dati cartografici di facile utilizzo. Quindi è davvero una notizia interessante. Speriamo che riescano a prender piede, perché avere alternative a Google Maps è sempre cosa buona e giusta. Come vi dicevo prima, il progetto poi cercherà di integrarsi con i dati cartografici aperti esistenti provenienti da altri progetti come OpenStreetMap, ma anche dai dipartimenti di pianificazione urbanistica. Insomma, raccoglierà un casino di dati. Quando ci sarà il primo set di dati, verrà pubblicato nella prima metà del 2023. Quindi abbiamo ancora diversi mesi di attesa. Quindi fra un sei mesi vedremo che cosa bocca in pendola e quali saranno i primi prodotti. Non ci resta che attendere e sperare. Passiamo adesso a parlare di riasci di applicazioni OpenSource. E apriamo credenze parlando di GIMP, perché c'è stato il rilascio della prima versione stabile di GIMP per processori Apple Silicon, quindi Apple M1, M2, chi più ne ha più ne metta. Si tratta di una revisione del pacchetto di GIMP 2.10.32, già rilasciato qualche mese fa e ricostituito con una nuova infrastruttura basata su MacPors. Abbiamo adesso quindi due pacchetti di GIMP, se andiamo sul sito di GIMP che possiamo scaricare, due di MG, uno per architettura MacOS su Intel e l'altro per architettura MacOS su Apple Silicon. Il sito web di GIMP provvederà a indirizzarvi al pacchetto completo rilevando la vostra architettura, quindi se la vedrà tutto lui, quindi non dovete fare niente. Inoltre poi questo pacchetto è stato rivisto, perché è stato rivisto anche nella versione quella per MacOS su Intel, perché sono state aggiornate le dipendenze, in particolare sono state aggiornate le dipendenze di Bubble e GEGL. Questo significa che anche la versione per MacOS su Intel otterrà una recente correzione di bug della race condition che a volte causava un arresto anomano di GIMP. Se avete un computer con processore Apple Silicon, fatemi sapere che cosa ne pensate se l'avete provato. Restando in tema di applicazioni per redditing immagini, è stata rilasciata la versione 1.2.2 di Inkscape per Linux, Windows e MacOS. Si tratta questa di una regrese di manutenzione con correzione di bug, che si concentra su correzioni di bug critici, perché c'erano 4 bug critici che causavano il crash dell'applicazione, qualche correzione minore e poi aggiornamento delle traduzioni per l'interfaccia utente. Ci sono poi qualche piccola novità che riguarda per gli utenti MacOS, ad esempio gli utenti MacOS adesso hanno il controllo ortografico e le opzioni di annugamento ripristino che sono state ripristinate all'interno dei menu. Infine poi troviamo un'altra cosa degna di nota che è l'importazione di OpenCripArt è adesso disponibile per tutti i sistemi operativi e le build. Concludiamo questo spezzone dedicato al rilascio delle applicazioni con una notizia riguardante il rilascio di OpenShot 3.0. Dopo l'oltre un anno di sviluppo il team di OpenShot, il famoso editor video open source gratuito e multiplattaforme, ha annunciato il rilascio di questa nuova versione, ovviamente per Linux, MacOS e Windows. Questa nuova versione offre più di mille miglioramenti che vanno a migliorare non soltanto le funzionalità del programma, ma vanno anche ad aumentare le prestazioni, la stabilità e a ridurre il consumo di risorse. Sono stati poi fatti miglioramenti anche per quanto riguarda l'introduzione del supporto per Blender 3.3, il supporto per i display 4K, i monitor con DPI elevati, migliorate poi ovviamente la timeline, quindi l'usabilità, migliorate l'esportazione di più clip e video contemporaneamente, anche perché mi è stata aggiunta questa possibilità. Insomma, hanno fatto davvero un rilascio interessante. L'unica critica che io faccio a open shot è che andrebbe un po' svecchiata l'interfaccia, magari cambiando quelle maledette icone vecchie di Ubuntu, che la fanno sembrare già vecchio al primo avvio. Perché, ricordatevi, l'occhio vuole la sua parte. Passiamo adesso a parlare di due desktop environment. Uno straconosciuto, straappezzato, strarinomato, e l'altro che è ancora in fase embrionale. La prima notizia riguarda K-Win, la nuova versione di K-Win che vedremo su KDE Plasma 5.27. K-Win è una parte di KDE, gestore delle finestre. K-Win in KDE Plasma 5.27 vedrà l'arrivo di una funzionalità molto apprezzata, molto richiesta dagli utenti che utilizzano il computer per la produttività avanzata. e riguarda il sistema di tagging. K-Win 5.27, che vedremo su KDE Plasma 5.27, avrà un sistema di tagging avanzato, integrato, che possiamo utilizzare per impostare layout personalizzati, ridimensionare più finestre adiacenti, una volta trascinate sui vari spazi di lavoro, sulla nostra finestra. Cioè, una possibilità di tagging che abbiamo già visto, dato grafico, su sistemi di tagging alternativi, minori, non mainstream. Abbiamo visto su alcuni desktop environment riprodotti mediante una serie di estensioni e abbiamo visto anche recentemente su Windows 11, perché Microsoft ci ha tenuto a integrare un sistema di tagging avanzato anche su Windows 11. Questa funzionalità di tagging avanzato di K-Win è ancora agli inizi, non è progettata per replicare completamente il flusso di lavoro di un gestore di finestra affiancata, però è interessante, perché gli sviluppatori si aspettano che questa funzionalità possa crescere, avanzare nel tempo, e che le nuove API aggiunte dovrebbero avanzare, secondo gli sviluppatori, anche gli script di tagging di terze parti. Ma prima vi parlavo anche di un altro desktop environment e parliamo adesso di Cosmic Deck, il desktop environment sviluppato da System76 per la sua distribuzione PopOS, la distro basata su Ubuntu che System76 sviluppa, utilizza sui computer che commercializza e distro che è comunque liberamente scaricabile e installabile da chiunque. All'inizio di dicembre su blog dell'azienda sono stati pubblicati una serie di aggiornamenti sullo sviluppo di Cosmic Deck che promettono alcune cose interessanti. Praticamente stanno riscrivendo tutto, tutto il desktop environment, quindi avremo un nuovo compositore scritto per Cosmic Deck che fornirà un migliore supporto anche per fondamentali unità come l'HIDPI, l'HDR, il ridimensionamento frazionario. Molte energie saranno dedicate a garantire un'esperienza fluida su hardware Nvidia. Ci sono diversi sviluppatori che stanno lavorando su questo progetto e sviluppatori che anche provengono da altri progetti come Smith & E. Verrà poi, stanno lavorando anche un altro componente scritto in Rust per la gestione dei caratteri che sarà un componente molto importante. Quindi ci tengono anche sotto questo punto di vista. Ci sono poi, verrà utilizzato, lo sapete, ormai da tempo, verrà utilizzato il toolkit iSed per le applicazioni. Gran parte dello sviluppo è attualmente rivolta allo sviluppo di una libreria chiamata Lib Cosmic, una libreria di widget che contiene tutti i comuni widget condivisi tra le applicazioni e gli upgrade di Cosmic Day e stanno lavorando gli sviluppatori anche a un toolkit che conserirà di convertire le attuali applicazioni GTK di PopOS in iSed rendendole compatibili con la Shell Wild e sfruttandone insomma tutte le capacità. Abbiamo visto poi una serie di screenshot che riguardanti alcune interfacce, alcuni pannelli di Cosmic Day nello fattispecie su Xbox trovate uno screenshot che riguarda la gestione degli spazi di lavoro. Allora permettetemi di fare allora quel tema spero che lo cambino perché è una cosa di orribile mi fanno male gli occhi soltanto a guardarlo adesso lo sto riguardando in questo momento e confermo che fa male agli occhi queste tonalità questo punto di vista devono ancora lavorarci molto. Comunque stanno cercando di creare un'esperienza coerente perché dai vari screenshot si vede che stanno lavorando per dare un aspetto unico e corrente a tutto il desktop environment speriamo che lavorino meglio sul rendere il tutto più meno acido diciamo così da quel che sto vedendo stanno facendo grandi passi per supportare per sviluppare questo desktop environment io come vi ho detto in qualche puntata fa non vedo l'ora di poterci mettere le mani di poterlo provare gli ho dedicato gli dedicherò un disco a parte per seguirne lo sviluppo e non appena ci sarà la prima versione installabile utilizzabile anche se iniziale di CosmicT vi spiegherò su Marcosbox ve la mostrerò su Marcosbox troverete articoli al riguardo andate a leggere comunque l'articolo che ho pubblicato sul blog dove ci sono tutti quanti gli screenshot vengono meglio spiegati gli elementi attualmente in sviluppo di Cosmic Day prima vi avevo parlato di due desktop environment di una notizia riguardante i due desktop environment ma in realtà vi mentivo vi mentivo perché c'è un'altra notizia riguardante un altro desktop environment e siccome sono piccolo e non mi va di registrare lo spezzone di prima beccate questo più uno rispetto alla notizia di prima c'è stato il rilascio dopo quasi due anni di sviluppo di XFSA 4.18 la nuova versione di uno dei desktop environment più apprezzati perché è molto personalizzabile ed è anche abbastanza parco di consumo anche se in realtà ultimamente abbiamo visto che più o meno XFSA e KDE nella sessione vanilla più o meno si equivalgono quindi anche questo mito è stato un po' superato però XFSA ha tantissimi utenti che lo apprezzano che lo utilizzano ogni giorno rispetto alla versione precedente di XFSA questa versione 4.18 aggiunge nuove funzioni interessanti risolve svariati bug e ovviamente va a fare alcuni miglioramenti minori che lo perfezionano lo migliorano sempre di più comunque sulle pagine di Marcosbox trovate un articolo dettagliato che vi gusta tutte quante le novità di XFSA 4.18 per sommi capi vi posso citare ad esempio dei miglioramenti che sono stati fatti con nuovi widget per gli editor delle scorciatoie nuovi widget che vanno a migliorare anche l'inserimento di nomi di file modifiche sono stati fatte due per green prima in passato avevamo due per green uno che si occupava della data l'altro che si occupava dell'ora adesso su XFSA 4.18 non abbiamo più due per green separati ma ne abbiamo uno che si occupa di fare entrambe le cose sono stati fatti diversi miglioramenti in tuner sono stati fatti miglioramenti anche per quanto riguarda XFSA e settings per esempio la possibilità di ricercare all'interno all'interno del pannello delle impostazioni c'è il campo di ricerca che viene sempre visualizzato modifiche che sono state fatte a XFSA settings editor che ora è possibile trovare rapidamente impostazioni specifiche utilizzando i nuovi widget di ricerca vi dicevo prima che sono stati fatti parecchia attenzione è stata dedicata anche a tuner per quanto riguarda la visualizzazione rencor l'anteprima delle immagini funzionalità di annuga e ripristina l'evidenziazione dei file barra degli strumenti che è stata modificata è stata introdotta la vista divisa insomma hanno fatto davvero un lavoro corposo su questo desktop in farm e su tutti quanti le applicazioni che ne fanno parte fatemi sapere voi che cosa ne pensate se siete anche voi dei fan di XFSA se l'avete già provato capa parentesi è già disponibile grazie a un repository ufficiale per per Xubuntu quindi se avete Xubuntu e volete aggiornare nei prossimi giorni vi spiegherò come fare passiamo adesso con una notizia riguardante il rilascio della nuova versione della nuova ponte release di Linux Mint il team di Linux Mint ha infatti rilasciato giusto in tempo per Natale Linux Mint 21.1 nome in codice vera nelle consuete tre edizioni cinnamon nomate XFSA su Marcosbox trovate un articolo dettagliato che vi illustra quali sono le principali novità di questa minor release che si va a concentrare principalmente soprattutto anzi non principalmente si va a concentrare sull'aspetto della distribuzione in particolare sia sui temi ma anche sul comportamento predefinito che ne so ad esempio di cinnamon il desktop adesso è stato riordinato mostra loro soltanto gli elementi essenziali quindi i falli che noi andiamo a rilasciare specificatamente sul desktop oppure i dispositivi montati quindi non abbiamo più le icone che ci apparivano all'inizio predefinite sul desktop quindi abbiamo un desktop una scrivania più pulita più chiara più limpida per tutti quanti quelli che odiano le icone sul desktop che siete dei besti di satana perché non so che cosa vi hanno fatto di male i ricone sul desktop non ho mai capito questa cosa c'è anche una nuova palette colori ci sono dei nuovi colori per quanto riguarda Linux Mint ovviamente siccome il team di Linux Mint è abituato a non ferire i sentimenti dei vecchi utenti i vecchi colori quelli legacy che sono stati ribattizzati legacy sono comunque disponibili devo dire che i nuovi colori sono piacevoli e il team di Linux Mint ha fatto una cosa che non se l'aspettava quasi nessuno io non me l'aspettavo una cosa del genere ovvero non abbiamo più il verde di Mint come tema predefinito per l'impostazione predefinita adesso abbiamo il tema acqua che è caratterizzato da colori accentati di blu chiaro diciamo così cambiano adesso anche le icone predefinite che non sono più quelle di una volta quelle verdine quelle bruttine ma sono o meglio le icone delle cartelle predefinite precisiamo adesso sono di colore giallo che ben si sposano devo dire con gli accenti di blu chiaro restano purtroppo le consuete personalizzazioni delle icone di terze parti che non lo so quando il team di Linux Mint capirà che fanno riprezzo detto proprio in maniera molto schietta io le odio non so voi ma io continuo a non apprezzare quelle icone per le icone di terze parti che sono bruttissime introdotto poi visto che hanno cambiato hanno cambiato sia il tema di GTK che il tema di icone hanno anche fatto delle modifiche e hanno introdotto un nuovo tema per il cursore del mouse e devo dire che anche in questo caso hanno un po' esagerato a mio avviso avviate la live e ditemi voi se sbaglio i suoni di sistema sono stati modificati anche in questo caso c'è un nuovo c'è un suono di avvio particolare quando si avvia la distra per offrire poi comunque agli utenti una scelta più ampia hanno deciso di pre-instagare una serie di set di icone alternative di set di temi alternativi quindi troveremo le Breeze le Papyrus le Numix e gli Haru e alcuni di questi temi per esempio come Breeze Numix e Haru vanno a sopperire a quella odiosa tradizione di Gnospint di mettere le icone di terze parti ci sono poi i miglioramenti che riguardano non soltanto le edizioni principali con Sindamo ma anche quelle con XFCE e con Mate ci sono dei stati di fatti di miglioramenti nel driver manager quindi miglioramenti anche dell'installazione della gestione dei driver Nvidia l'integrazione completa di Flatpak all'interno dell'update manager che adesso consente di aggiornare anche i pacchetti di Flatpak direttamente dall'update manager questa è una cosa molto interessante che finalmente si sono decisi a introdurre sono stati fatte dei miglioramenti per quando guarda lo strumento di verifica delle ISO ma anche lo strumento per la scrittura e la formattazione delle pendrive che adesso per esempio si può anche verificare le ISO quindi prima di andare a scrivere insomma hanno fatto un bel lavoro poi ci sono alcuni miglioramenti che sono stati fatti a Cinnamon ad esempio adesso un nuovo layout del pannello abbiamo adesso una specie di barra la barra d'angolo come la volete chiamare voi in stile Windows in basso a destra mettendo la quale è possibile fare la mostra desktop è comunque personalizzabile la cosa quindi si sono windowsizzati sotto questo punto di vista ci sono poi alcuni cambiamenti visivi che sono stati operati nella selezione dell'icone all'intorno di Nemo quindi i file selezionati prima venivano selezionati c'era un agone tutto attorno sia al nome del file che anche all'agone attorno all'icone del file adesso non più viene evidenziato solo il nome degli elementi selezionati ed è una cosa buona e giusta e poi ci sono tanti altri miglioramenti di milioni andatevi a dare un'occhiata all'articolo che ho pubblicato su Marcosbox perché trovate tutte quante le informazioni riguardo delle novità di Linux Mint 21.1 ma in codice vera con tutti quanti gli screenshot e ovviamente trovate i link per poter scaricare le ISO aggiornate passiamo adesso a parlare della nuova rubrica avviata da Luca che ci parla del gaming su Linux la nuova rubrica si chiama Open Source Games adesso mentre vi sto parlando mentre sto registrando la puntata del podcast sono state pubblicate le prime due puntate i primi due articoli dedicati a questa rubrica la prima è un'introduzione generale la seconda parla dei classiconi quindi quei giochi arcade a scorrimento orizzontale tipo che ne so Super Tux è una rubrica davvero interessante che vi invito a seguire perché ci sono diversi spunti fateci una lettura e fatemi sapere se anche voi avete provato questi giochi che sono giochini passatempi diciamo così non troppo impegnativi non sono gioconi di prima ma sono giochi che vi fanno passare qualche minuto in divertimento qualche minuto qualche ora dipende se voi siete drogati di gaming come il sottoscritto e concludiamo questa puntata del podcast di Marcosbox con un articolo esperimento che ho fatto qualche giorno fa sulle pagine del blog riguardante una nuova intelligenza artificiale che nel corso delle ultime settimane sta facendo un gran parlare di sé se non avete vissuto su un martedì sicuro avete sentito parlare nelle ultime settimane di chat GPT un'intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI in grado di dialogare con gli umani rispondendo a domande e scrivendo all'occorrenza testi ma anche righe di codice per noi è un'intelligenza artificiale davvero stupenda basta chiedere a chat GPT qualunque cosa e a questa intelligenza artificiale ci risponderà a modo di chat in maniera naturale in maniera esaustiva ci risponde anche a domande fatte in italiano quindi anche localizzate nella nostra lingua la sto provando da diversi tempi da quando è uscita sto cercando di fare le domande più bizzarre più fuori per cercare di capire fin dove si può spingere questa intelligenza artificiale e fino adesso salvo qualche stafalcione si è comportata si è comportata egregiamente ci ho anche chiesto dei numeri al SuperNarot e pensate un po' ci ho vinto pure 2 euro però non chiedete i numeri al SuperNarot se no vi dice che non li può dare ma dovete imbrogliarla per fare questo esperimento per parlare di questa intelligenza artificiale ho chiesto a ChatGPT sul suggerimento anche del mio amico Daniele che mi ha spronato a fare questo esperimento gli ho chiesto scrivimi un articolo per il blog nel quale si parla dell'importanza del software libero open source nella società moderna e perché dovremmo scegliere solo programmi con licenze open e ChatGPT mi ha prodotto un testo che trovate sulle pagine di Marcosbox non so cosa ne pensate voi di questa della sua risposta delle sue capacità di linguaggio secondo voi in un futuro prossimo ChatGPT potrà sostituire un essere umano per questo genere di lavori lasciate un commento fatemi sapere che cosa ne pensate poi se avete modo di provarla testatela magari se siete competenti per quanto riguarda la programmazione chiedetegli anche roba di programmazione vedete di testare le sue capacità potete chiedere qualsiasi cosa risoluzione dei problemi algebrici risoluzione di codici se vi serve delle stringhe di codici per qualche cosa è stupenda fateci provatela e poi fatemi sapere cosa ne pensate ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 137esima puntata del podcast di Marcosbox come sempre vi invito a seguirmi sulle principali piattaforme social mi trovate su facebook mi trovate su twitter mi trovate su youtube mi trovate su linkedin mi trovate su mastodon sulle pagine di Marcosbox appena stato messo il link al mio profilo principale mi trovate ovviamente su telegram dove sono reattivo con un canale dedicato alle notizie quindi dove vengono riportate e ripostate tutte e quante le notizie dal mondo di Marcosbox trovate poi la community telegram collegata nella quale potete iscrivermi e parlare anche di argomenti non inerenti strettamente al mondo del software libero open source trovate poi un canale telegram dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog potete comunque supportarmi anche prendendo direttamente il link che trovate sul blog infine vi ricordo che se avete bisogno di una VPN potete supportarmi anche acquistando rinnovando la vostra VPN che sia surfshark che sia donatovpn che sia atlasvpn su Marcosbox trovate un link con il mio codice referral che potete appunto come vi dicevo utilizzare per supportare il blog e vi informo inoltre che sto facendo una modifica al feed rss perché mi sono accorto che non sempre riesce a riportare le notizie vi terro aggiornati nelle prossime settimane con con eventuali novità al riguardo che dire lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo nella prossima puntata del podcast in Marcosbox si spera entro la fine dell'anno vi faccio i miei migliori auguri per un sereno e tranquillo Natale mi raccomando mangiate a sbaffo riposatevi state con i vostri cari abbracciateli insomma dedicate un po' di tempo alla vostra famiglia perché la famiglia è importantissima ciao ciao e comunque forse farò una puntata speciale per Natale spero credo vabbè almeno gli auguri ve li posto a voce ciao 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 Grazie.